Troppo vinedo per il Celano. Gli ospiti, in piena corsa playoff, scendono al piccone, consci delle mille insidie di un testa-coda e perciò determinati sin dal fischio d'inizio. Appena un minuto e Fruci colpisce sottoporta sugli sviluppi di un corner. La partita tutta in salita per i Castellani che non trovano il bandolo della Matassa contro il Dream Team Pinedese e all'ottavo sta per concedere il bis quando Cacciatore spara da due passi ma Fanti è reattivo, Antenucci vagamente circense, alla Volè che non trova la rete. Si rimane sull'1-0 e al dodicesimo abbiamo le prime tracce celanesi con un angolo che termina fra i piedi di Castellani, poco freddo alla deviazione risolutiva. Di nuovo Pinedo alla mezz'ora con un Antenucci dilagante che in contropiede è lezioso al tocco di Fino che non scavalca Fanti. Il 2-0 nell'aria e puntuale arriva al 34esimo quando Antenucci pennella su punizione non lasciando scampo all'estremo locale. Passiamo quindi alla ripresa che si apre con il Celano propositivo al terzo quando Lennart tocca per Marfia che pesca di Virgilio tutto solo ma flebile alla conclusione intercettata. 60 secondi e il Pineto fatrisse con Francia che trova la deviazione che favorisce la testa di Antenucci per il 3-0 del tutto provvisorio. Al nono i Castellani riprendono il filo del discorso con Mercogliano uno dei pochissimi padroni casa propositivi ma Cattenari devia in angolo. Fase di stanca nei minuti successivi poi il Pineto accelera e se ne va. 24esimo un taglio illuminato pesca cacciatore alla scucchiaiata estremamente proficua. E sono 4. 28esimo alleggerisce il Celano con Marfia che tocca per Lennart solo alla conclusione intercettata che non gli regala il punto della bandiera. 31esimo di Donato entra a metà campo, si sistema in aria e sigla il pocherissimo di riscatto per la causa dei panchinari. 38esimo ancora ospite a portare il terrore in aria con Orta, altro neo entrato ma alla fine la salvezza arriva nei pressi della linea. Palla in angolo, Frucci si traveste da difensore goleador ed è un killer sottoporta per la seconda volta oggi. 6-0 che si appesantisce ulteriormente in piena zona Cesarini quando cacciatore si traveste da assistman per la causa di Mario Orta preciso nel tocco a scavalcare Cocuzzi. Secondo Di Fanti, subentrato per alleggerire la pena del numero 1 Castellano evidentemente, non c'è recupero. Meglio così, si finisce sul 7-0, i tifosi Castellani guardano la gigantografia di De Maio e Dionisi in maglia celanese e sospirano. Come sono lontani quei tempi. Dopo partita con mister Ammazza l'orso, commentare un 7-0 è francamente difficile ma per voi le indicazioni sono ottime? Buone indicazioni da parte di tutti, una buona prestazione perché abbiamo già dato un là nel primo tempo e poi nel secondo chiaramente si sono aperti un po' di più e abbiamo potuto fare una serie di gol. Quanti meriti vostri e quanti dei meriti altrui? Noi pensiamo per noi, per loro penso sia una situazione un po' così e quindi bisogna ritrovarsi. Emilio Carmignani, la prendiamo con filosofia, vale sempre tre punti persi. Sì, prendiamola così anche se il risultato brucia e tanto. Come è maturato questo 7-0? A mio modo di vedere sull'1-0 è successa una cosa un po' particolare, vorrei chiedere spiegazioni all'arbitro. Ha fischiato una punizione con il loro portiere Cattenari che è uscito fuori dall'area di rigore, ha preso la palla con le mani, ha fischiato la punizione e dà regolamento al rosso diretto. Volevo chiedere la motivazione per cui non è accaduto questo. Nel senso, dopo 1-0, a 8 minuti dall'inizio, 10 contro 11, poteva essere un'altra partita. Nulla a togliere a loro, che sono squadra rispetto a noi di un altro pianeta. Gli faccio i complimenti perché hanno giocatori, secondo me, di categoria superiore.